Ma bentornati nella prima puntata dell'anno di Whatsapp Economy Podcast. Subito dopo l'elenco inizieremo a parlare del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o meglio conosciuto anche come Next Generation EU o Recovery Fund e darò alcune mie riflessioni per quanto riguarda la bozza pubblicata il 12 gennaio. Successivamente al minuto 12.37 parleremo di crisi di governo e degli impatti sulle finanze pubbliche. Al minuto 14.10 parleremo di economia italiana grazie ad un report della Banca d'Italia e allo stato dell'economia italiana. Infine al minuto 21.04 parleremo di cashback di Stato e dei suoi effetti nella sua prima fase di sperimentazione. Il 12 gennaio è stato firmato nel Consiglio dei Ministri il Piano per il Next Generation Italia è stato definito o meglio detto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ora su Instagram mi sono subito affrettato a dire che è ancora nonostante la firma nel Consiglio dei Ministri una vera e propria bozza in quanto manca la discussione parlamentare e poi l'approvazione da parte della Commissione Europea. Quindi anche se firmato nel Consiglio dei Ministri si può considerare questa una vera e propria bozza e anche nel documento stesso c'è scritto che questa è una bozza aggiornata il 12 gennaio 2021. E su Instagram mi avevo detto che avrei discusso di questi temi una volta che il Piano sarebbe diventato ufficiale. Solo che tentato dalla voglia di leggerlo e anche da varie recensioni che ho letto online e delle pressioni di alcuni di voi mi sono messo a leggere questo documento su Twitch ieri, giovedì 14 gennaio e ci ho messo un bel po' di tempo visto che sono 170 pagine. E i problemi non sono pochi. Arrivati alle 2.30 di notte la sensazione era quella di aver perso del tempo leggendo questo piano. E un po' avevo ragione fin dall'inizio e cioè che probabilmente mi sarei potuto risparmiare questa cosa e attendere la versione ufficiale e definitiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte dell'Italia. Ci sono vari problemi all'interno di questo piano e cercherò di elencarli molto brevemente perché non voglio spendere ulteriore tempo e non voglio farvi spiegare a voi anche ulteriore tempo in questo argomento. Il primo problema è un documento lungo 170 pagine. Io mi aspettavo che ci fosse tanta roba all'interno di queste 170 pagine. In realtà arrivando fino alla ventesima, trentesima pagina si è praticamente letto tutto il documento perché poi tutta la restante parte del documento è uno stretching di tutti i concetti che si sono detti in quelle 20-30 pagine. E questo diciamo che arrivati alla 50-60esima pagina un po' scoccia. Quindi il documento poteva essere tranquillamente riassunto in al massimo 50 pagine e probabilmente con qualche scamotage si sarebbe detto molto di più. Un altro problema è che all'interno del documento non è presente alcuna fonte, alcuno studio, alcun riferimento a delle organizzazioni internazionali che hanno studiato determinati eventi che vogliono combattere con questo piano nazionale. Non è presente nulla di nulla. La prima fonte che è stata citata all'interno del documento l'ho trovata a pagina 115 su 175. La prima è probabilmente l'unica. E tra l'altro anche la modalità di citazione della fonte era sbagliata, quindi degli errori che neanche un neolaureato in triennale farebbe. Praticamente davanti a me mi sono trovato un documento di buoni propositi, di lista dei desideri, di quello che piacerebbe fare all'Italia con i soldi dell'Europa. È nulla di più e nulla di meno. È un documento del genere, estremamente discorsivo, senza allegato per l'appunto nessuna fonte, nessuno studio, nessun'analisi quantitativa di determinati eventi, come si combattono, come si generano all'interno del paese, rende la trattazione estremamente soggettiva e di difficile interpretazione e valutazione, sia da un punto di vista economico che politico. E anche lì, durante la lettura, mi sono chiesto come i ministri abbiano fatto affermare un documento del genere, visto che è estremamente difficile valutare la bontà di questo documento proprio per la sua natura in cui è stato scritto. È estremamente descrittiva e qualitativa e non analitica e quantitativa. E qui arriviamo ad un ulteriore problema. Probabilmente tra sabato e domenica uscirà un estratto di questa live in cui spiego come funziona il Next Generation U. In questo spezzone spiego come in realtà la Commissione Europea richiede tutta una roadmap di tutte le politiche, sia da un punto di vista temporale che quantitativo, e gli effetti che queste politiche possono avere sull'economia. Quindi qualcosa di estremamente dettagliato in modo che possa essere valutato dalla Commissione Europea per capire se l'utilizzo dei fondi sia stato utilizzato in maniera efficiente o meno. Ebbene, tutto ciò all'interno del documento, come vi ho già detto, non è presente. Tutte le politiche che sono state descritte sono state descritte per l'appunto in modo descrittivo e senza alcuna interpretazione per quanto riguarda l'impatto economico che queste politiche possono avere all'economia italiana e quanto in realtà queste politiche poi gioveranno alla futura crescita del Paese. E questo è un problema enorme che ovviamente infigia la valutabilità del documento. Gli unici numeri presenti all'interno del Piano Nazionale di Ripesa e Resilienza nella bozza, e lo sottolineo e poi ci arriveremo, del 12 gennaio sono quelli riassuntivi delle tabelle dei soldi messi a disposizione per ogni politica e obiettivo politico che sono in tutto sei che si danno dal 2021 al 2026. Quindi praticamente c'è un elenco dei soldi stanziati e a chi probabilmente verranno stanziati ma manca tutta la parte di esecuzione del piano quindi quanto tempo ci metteranno che impatto potrebbero avere determinare con precisione cosa andrà a chi e quando eccetera eccetera e ovviamente presentare questo documento alla Commissione Europea comporterebbe un sicuro insuccesso cosa che è stata sottolineata anche da alcuni economisti che hanno recensito questo piano. Il problema è che quando appunto ho letto queste cose non ci volevo credere e sono effettivamente andato a vedere se questa assenza di analisi quantitativa era stata un'assenza voluta o c'era un qualche tipo di dolo o incompetenza. Ebbene, in realtà cerco di spezzare una lancia a favore del governo in quanto proprio all'interno dello stesso documento viene specificato come tutte le analisi quantitative e di impatto economico sono state volontariamente omesse dalla bozza e verranno presentate al Parlamento una volta che per l'appunto questa bozza verrà discussa dapprima nel Parlamento italiano e poi alla Commissione Europea. E un po' mi ha lasciato un po' perplesso riguardo determinate persone che hanno recensito questo documento e che si sono strappati i capelli perché questo piano non verrà mai accettato dalla Commissione Europea. Ebbene, se si legge il documento si capisce che questa bozza non verrà mai presentata in realtà alla Commissione Europea è per l'appunto una bozza e anche qui se fosse stata di 50 pagine sarebbe stata molto più facile capire che era semplicemente una bozza che non era sicuramente l'ultimo passo prima di consegnarlo alla Commissione Europea. Quindi verrà implementato ulteriori analisi e di certo questa seconda bozza in realtà è di difficile interpretazione perché manca tutto l'aspetto quantitativo e di conseguenza capire se determinate politiche possono o meno avere un effetto e un impatto economico positivo per l'economia è estremamente difficile se non impossibile. Anzi, già costruire un'analisi di impatto è estremamente difficile perché comporta tutta una serie di presupposti e implicazioni che, visto lo scenario estremamente incerto dovuto alla pandemia sono anch'essi molto spesso soggettivi quindi se già è difficile interpretazione un documento con un'analisi quantitativa lo è estremamente e ancora di più un documento senza un'analisi quantitativa. Tra l'altro, un ultimo ragionamento e questo si collega non solo al Piano Nazionale di ripresa e resilienza ma anche per quanto riguarda la legge di bilancio che abbiamo brevemente visto nella live di ieri su Twitch il fatto che si possono scrivere i documenti le leggi più belle del mondo ma se poi non c'è un'effettiva implementazione corretta ed efficace da parte dello Stato e delle amministrazioni pubbliche beh, queste leggi e questi piani potrebbero arrivare tranquillamente al fallimento e lo sottolineano le più importanti istituzioni tra cui ad esempio l'Ocse di cui abbiamo già parlato in una precedente puntata del podcast sul fatto che è fondamentale essere il più efficienti possibili e cercare di calcolare gli impatti economici ex ante di determinate politiche estremamente complesse anzi si farebbe meglio a calcolarle in itinere man mano che si procede col tempo ovviamente sempre basando le proprie decisioni su più studi scientifici possibili e con cognizione di causa vista la centralità dello Stato per implementare tutte queste politiche economiche l'Ocse ha fornito 13 raccomandazioni per quanto riguarda lo Stato in modo da renderlo il più efficiente possibile e avere un impatto sempre maggiore per quanto riguarda queste politiche la prima è dimostrare l'impegno ai massimi livelli politici e gestionali del settore pubblico e rafforzare l'integrità pubblica e ridurre la corruzione la seconda chiarire la responsabilità istituzionali in tutto il settore pubblico per rafforzare l'efficacia del sistema di integrità pubblica la terza sviluppare un approccio strategico per il settore pubblico basato su evidenza concrete e volto a mitigare i rischi di integrità pubblica il quarto è impostare elevati standard di condotta per i funzionari pubblici la quinta promuovere una cultura di integrità pubblica per l'intera società collaborando con il settore privato la società civile e i singoli individui la sesta raccomandazione dell'Ocse è investire in una leadership etica per dimostrare l'impegno delle organizzazioni del settore pubblico nei confronti dell'integrità la settima promuovere un settore pubblico professionale e fondato sul merito votato ai valori del servizio pubblico e del buon governo la nonna sostenere all'interno del settore pubblico una cultura organizzativa aperta che sappia rispondere a problematiche di integrità l'ottava fornire sufficienti conoscenze formazione orientamenti e pareri tempestivi ai funzionari pubblici per l'attuazione delle norme di integrità pubblica sul luogo del lavoro la decima è applicare un sistema di controllo interno di gestione dei rischi per salvaguardare l'integrità delle organizzazioni del settore pubblico l'undicesima assicurare che i meccanismi di regolazione forniscono risposte adeguate a tutte le presunte violazioni degli standard di integrità pubblica da parte dei funzionari pubblici e di tutte le altre persone coinvolte nelle violazioni la dodicesima rafforzare il ruolo delle supervisioni e del controllo esterni nell'ambito del sistema di integrità pubblica la tredicesima incoraggiare la trasparenza e il coinvolgimento delle parti interessate in tutte le fasi del processo politico e del ciclo regolamentare per promuovere la responsabilità e l'interesse pubblico tutte queste raccomandazioni secondo l'Ox dovrebbero portare una maggiore integrità negli appalti pubblici un'accountability un controllo e una supervisione dei pacchetti di stimolo economico e di conseguenza anche una diminuzione del rischio di corruzioni nelle organizzazioni pubbliche tutto ciò dovrebbe comportare delle politiche economiche che come abbiamo visto diventano centrali per la ripresa delle economie europee e non diventano centrali e quindi è importante che l'amministrazione pubblica risulta il più possibile efficace e anche non soggetta a corruzione visto gli ingenti importi di soldi disponibili dallo Stato e che potrebbero essere sprecati e così siamo davanti ad una nuova crisi di governo ora per i nuovi di questo canale probabilmente si aspetteranno un'analisi politica di quello che sta succedendo ebbene questo non è territorio di Whatsapp Economy noi cerchiamo di rimanere il più possibile nell'ambito economico e quindi parlando di crisi di governo in realtà la cosa interessante è che ieri è stato emesso una nuova asta di titoli obbligazionari da parte dello Stato dei titoli di Stato ebbene a causa della crisi di governo questa crisi di governo ha fatto alzare non a livelli allarmanti comunque è bene sottolinearlo lo spread e anche i titoli di tassi di interesse per quanto riguarda i titoli di Stato italiani e sfortuna ha voluto che una delle emissioni che non avvengono tutti i giorni ma a determinate giorni del mese e dell'anno ovviamente ne ho parlato anche in un vecchio video magari vi lascio il link in descrizione ebbene purtroppo abbiamo avuto la sfortuna di avere un'emissione di titoli di Stato proprio nel momento della crisi di governo e questo ha secondo il ministro dell'economia Roberto Gualtieri ha fatto aumentare i costi di finanziamento del debito pubblico di 8 milioni di euro rispetto a quello che ci si aspettava prima della crisi di governo sicuramente è una cifra che non fa allarmare come ad esempio i periodi del 2012 o del 2018 però è interessante anche sottolineare questa cosa qui come sta ammessa l'economia italiana ultimamente ce lo dice la Banca d'Italia con il suo bollettino economico ora vi leggerò il riassunto fatto proprio dalla Banca d'Italia sulla ripresa pesa la nuova ondata pandemica ma sono iniziate le vaccinazioni la recrudescenza dei contagi dall'autunno ha indotto un rallentamento dell'attività globale alla fine del 2020 soprattutto nei paesi avanzati l'avvio delle campagne di vaccinazione si riflette favorevolmente sulle prospettive per il medio termine ma i tempi e l'intensità del recupero restano incerti il consiglio direttivo della BCE continuerà a sostenere l'economia nell'area dell'euro gli effetti della pandemia sull'attività economica e sui prezzi si prefigurano più protratti di quanto precedentemente ipotizzato il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha ampliato e prolungato lo stimolo monetario per assicurare condizioni di finanziamento favorevoli a tutti i settori per tutto il tempo che sarà richiesto a garantire il pieno sostegno dell'economia e dell'inflazione è pronto a ricalibrare anche i suoi strumenti se sarà necessario in Italia a un forte recupero del PIL è seguito una sua flessione a fine 2020 in Italia la crescita superiore alle attese nel terzo trimestre ha evidenziato una forte capacità di ripresa dell'economia la seconda ondata pandemica come negli altri paesi dell'area ha tuttavia determinato una nuova contrazione del prodotto nel quarto trimestre sulla base degli indicatori disponibili tale flessione è attualmente nell'ordine del meno 3,5% anche se l'incertezza attorno a questa stima è molto elevata ricordiamo come nel terzo trimestre in realtà la crescita dell'economia era stata pari a 16% all'incirca il calo dell'attività è stato pronunciato nei servizi e marginale nella manifattura nelle nostre indagini le valutazioni delle imprese sono divenute meno favorevoli ma restano lontane dal pessimismo raggiunto nella prima metà dello scorso anno le aziende intendono espandere i propri piani di investimento per il 2021 secondo le famiglie intervistate dalla banca d'italia sono i tumori di contagio più che le misure restrittive a frenare ancora i consumi di servizi nel terzo trimestre del 2020 il recupero delle esportazioni italiane di beni e servizi è stato molto significativo ben superiore a quello registrato dal commercio mondiale in un autunno è proseguito ma con meno vigore negli ultimi mesi dello scorso anno sono ripresi gli afflussi di capitali e gli acquisti di titoli pubblici italiani da parte di non residenti il saldo della banca d'italia su target 2 è migliorato grazie al protatto surplus di conto corrente la posizione netta sull'estero è divenuta lievemente positiva dopo 30 anni di saldi negativi nel trimestre estivo con la riapertura delle attività sospese in primavera sono fortemente aumentate le ore lavorate e si è ridotto in ricorso agli strumenti di integrazione salariale anche il numero di posizioni di lavoro alle dipendenze è tornato a crescere gli ultimi dati disponibili indicano tuttavia un nuovo incremento dell'utilizzo della cassa integrazione guadagni a partire da ottobre seppure su livelli molto inferiori a quelli raggiunti durante la prima ondata dei contagi in novembre il recupero del numero di nuove posizioni lavorativi si è sostanzialmente interrotto evidenziando un divario rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in particolare per i giovani e le donne la variazione dei prezzi al consumo è rimasta negativa rispecchiando l'andamento dei prezzi nei settori dei servizi più colpiti dalla crisi la cui dinamica continua a risentire della debolezza della domanda le aspettative di inflazione degli analisti e delle imprese prefigurano ancora valori molto contenuti nei prossimi 12 mesi sui mercati finanziari si è diffuso un maggiore ottimismo gli annunci infatti sulla disponibilità dei vaccini l'ulteriore sostegno monetario di bilancio e il risolversi dell'incertezza legata alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti hanno rafforzato l'ottimismo degli operatori sui mercati finanziari all'estero e in Italia il differenziale di rendimento tra i titoli pubblici italiani e tedeschi lo spread sulla scadenza decennale permane su livelli inferiori a quelli osservati prima dell'emergenza sanitaria i mercati finanziari restano tuttavia sensibili agli sviluppi della pandemia le banche italiane hanno continuato a soddisfare le domande di fondi da parte delle imprese le condizioni di offerta si sono mantenute nel complesso di stese grazie al perdurare del sostegno proveniente dalle politiche monetarie e della garanzie pubbliche il costo della provvista obbligazionaria delle banche si è ulteriormente ridotto e i tassi sui prestiti a imprese e famiglie sono rimasti su livelli contenuti secondo la banca d'italia il pil tornerebbe a crescere in misura significativa dalla primavera con un'espansione attualmente valutabile nel 3,5% in media quest'anno nel 3,8% il prossimo e nel 2,3% nel 2023 quando si recupererebbero i livelli precedenti la crisi pandemica gli investimenti riprenderebbero a crescere a ritmi sostenuti beneficiando delle misure di stimolo e sarebbe considerevole la ripresa delle esportazioni quella dei consumi sarebbe invece più graduale con un riassorbimento solo parziale della maggiore propensione al risparmio osservata dall'insorgere dell'epidemia l'inflazione ribaremma è bassa anche nel corso di quest'anno per poi salire solo gradualmente nel biennio 2022-2023 la stima di crescita per l'anno in corso risente in misura significativa dell'effetto sfavorevole di trascinamento della flessione del prodotto prefigurata per la fine la parte finale del 2020 la dinamica dell'attività rispetto a quanto previsto nel bollettino economico dello scorso luglio è invece più robusta a partire dal secondo trimestre e significativamente più forte nel 2022 grazie allo stimolo delle misure di sostegno tra cui la legge di bilancio e il Next Generation EU la possibilità di conseguire questi ritmi di incremento del prodotto presuppone che si manifestino appieno gli effetti espansivi degli interventi ancora in corso di definizione previsti nell'ambito della Next Generation EU che le misure di sostegno evitano che il maggior indebitamento delle imprese abbia ripercussioni negativi sulla stabilità finanziaria e che non torino a peggiorare i timori sull'evoluzione dell'epidemia la crescita potrebbe per contro essere più elevata nell'ipotesi di un più rapido progresso nel controllo dei contagi questo è un po' il riassunto fatto della Banca d'Italia per quanto riguarda l'economia nell'ultimo trimestre del 2020 e anche un po' di prospettive riguardo i futuri anni ovviamente queste analisi sono abbastanza ottimistiche e cioè come abbiamo visto abbiamo sentito più che altro prevedono che tutti gli sforzi da parte dello Stato per implementare sia la legge di bilancio che il Next Generation EU siano degli interventi fatti con efficienza ed efficace che quindi possono avere un elevato impatto per l'economia italiana staremo a vedere se sarà così come andate a finire con il cashback di Natale questo argomento l'avamo trattato nella prima puntata del podcast di Whatsapp Economy e quindi vi consiglio di andare a recuperarlo se volete sapere in generale di cosa stiamo parlando questa era una prima fase di sperimentazione che ha iniziato l'8 dicembre ed è finita il 31 dicembre e poi iniziare la fase ufficiale dal 1 gennaio ebbene in questa fase sperimentale sono stati 5,8 milioni i cittadini che si sono iscritti al programma nel periodo appunto sperimentale però di questi 5,8 milioni sono solo 3,2 milioni le persone che hanno raggiunto la soglia delle 10 transazioni soglia minima per poter appunto poi usufruire del cashback all'inizio del periodo di sperimentazione si temeva che i fondi stanziati non sarebbero bastati per tutti e di conseguenza quelli che avrebbero usufruito del cashback si sarebbero dovuti spartire tra di loro tutti i fondi che aveva stanziato per l'appunto lo stato ebbene tutto ciò non è successo infatti su 227,9 milioni di fondi stanziati per questa misura nel periodo sperimentale sono stati 222 milioni i rimborsi quindi diciamo che c'è mancato poco però alla fine i fondi sono bastati solo il 3,1% dei beneficiari ha raggiunto il rimborso massimo di 150 euro mentre quasi il 50% otterrà un rimborso tra i 50 e i 99 euro il 32% avrà meno di 50 euro mentre il 14% di tutti i beneficiari otterrà tra i 100 e i 149 euro fonti di governo intervistate dal sole 24 ore si sono dichiarate soddisfatte dai risultati raggiunti e addirittura sono state questi risultati superiori rispetto alle aspettative aspettative che in realtà a meno da quanto io sappia non sono state comunicate al pubblico prima della partenza di questa riforma e quindi ad oggi non sappiamo quanto in realtà stia avendo un effetto benefico o meno questa politica per quanto riguarda i pagamenti digitali dal primo gennaio ci saranno nuove regole infatti non ci sarà più un mese per poter raggiungere i 10 pagamenti ma ci saranno 6 mesi i pagamenti minimi per accedere al cashback non saranno più di 10 ma di 50 l'unica cosa che non cambierà sarà il rimborso che sarà uguale a 150 euro ogni semestre quindi al massimo potremmo ottenere 300 euro all'anno inoltre dal primo gennaio ci sarà il cosiddetto super cashback che premierà i 100.000 persone che utilizzeranno di più i metodi di pagamento digitali con 1500 euro a semestre inoltre da febbraio dovrebbe partire anche la lotteria degli scontrini che è un'ulteriore politica ideata dal governo per cercare di diminuire l'evasione fiscale chissà se ce la faranno i nostri eroi a raggiungere questi obiettivi di politica economica tramite queste misure sta di certo che Whatsapp economy ci sarà e monitorerà il tutto nella maniera il più possibile corretta detto ciò spero che questa puntata sia stata di vostro gradimento io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata di Whatsapp economy podcast venerdì prossimo buona serata e buon weekend e buon weekend